Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a tutti e buon sabato da Gian Maria Balboni da Radio Onda Novara per l'appuntamento settimanale con il Radio Salotto dell'Informa Giovani, iniziativa appunto di Radio Onda che vede anche la collaborazione dell'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Novara. La puntata, come sempre, del sabato parte sempre con una scuola ospite. Oggi abbiamo una di quelle scuole che veramente la storia l'hanno fatta alla grande, la storia veramente di Novara. Sto parlando dell'Istituto Fauser e qui con noi ho il dirigente scolastico, una persona veramente simpaticissima, una persona veramente a modo e che insomma avremo modo di conoscere meglio, il professor Gian Battista Cattaneo. Buongiorno professore, grazie di aver accettato l'invito. Buongiorno e grazie a voi soprattutto dell'invito per la presentazione della scuola, grazie. Senta, io essendo giornalista sono un uomo di cronaca, innanzitutto il Fauser è finito un po' nelle prime pagine di tutti i giornali negli ultimi giorni per il fatto dell'albero che è caduto, non è che sarebbe caduto, si è appoggiato insomma sulla tettoia dell'Istituto, giusto per tranquillizzare tutti gli amici all'ascolto e anche fare chiarezza, questa è proprio cronaca reale. So che non ci sono stati problemi di sorta, so che le lezioni sono andate avanti comunque e soprattutto so che adesso la scuola assolutamente è stata messa in sicurezza, giusto? Sì, è successo sabato notte durante questa ondata di vento, quindi quasi una settimana fa sostanzialmente, un pioppo vicinissimo alle aule nord, quelle che sono all'esterno dell'Istituto dopo la palestra, un pioppo ha ceduto, era molto vicino alla struttura, si è sostanzialmente appoggiato, non ha danneggiato nulla e si è appoggiato poi sulla copertura, è stata questa copertura rivista, spazzata da tutte le foglie che sono quelle che hanno creato il maggior ostacolo perché chiaramente hanno un po' struito i canali, ma non c'è stato nessun incidente, nessun danno, per precauzione la provincia è intervenuta con una ditta specializzata, la quale ha rimosso alcune lastre che potevano anche rimanere lì, ma per sicurezza il lavoro è già stato fatto, i ragazzi tranne un pomeriggio nel corso post diploma sono sempre stati presenti perché lavorando all'esterno non c'erano problemi di sicurezza da questo punto di vista, per cui anche con questo intermezzo possiamo dire che non è successo nulla. È stato messo in sicurezza anche invece un altro pino da questo punto di vista, molto cresciuto, questo molto più alto che quello precedente e adesso la provincia sta facendo una rilevazione attenta degli alberi che sono alberi secolari e sono quindi alberi tutelati, però i ragazzi continuano ad andare dalla sede alla succursale tramite il corridoio che porta alle aule senza alcun problema, non sta accadendo niente. No, ma questo è bellissimo, è importante anche per far capire che subito è successo questo fatto che ovviamente è un fatto meteorologico, quindi assolutamente inaspettato, si è attivata la macchina della sicurezza Sì, immediatamente. Bisogna dire, dare atto che ha funzionato e quindi a tempo, veramente in tempo zero, si è riuscito a trovare una soluzione. I vigili del fuoco sono stati presenti tutto il giorno fino alle 21 di sera con le luci, eccetera. Bravi, parliamo invece adesso del Fausen. Una di quelle scuole, come posso dire, che ha la capacità almeno per come è strutturata, per come è studiata e come è anche organizzata da parte del corpo docente, da lei e da tutti i vari collaboratori, per avere sia dei ragazzi che sono pronti per il mondo del lavoro, ma anche dei ragazzi che magari, perché ottengono delle buone valutazioni e magari hanno voglia di mettersi ulteriormente in gioco, di dire, ma perché non proviamo anche l'università, soprattutto con le università tecniche tipo ingegneria, informatica, architettura. Ecco, questo fa capire che, insomma, è una scuola sul pezzo. Sì, noi dobbiamo riferirci per quanto riguarda l'occupazione a quelle graduatorie casistiche, statistiche ufficiali di Eurispo, che avete visto anche sulla stampa. Ha dei numeri spaventosi, belli, spaventosi nel senso buono, giusto? Due anni fa eravamo la seconda scuola della provincia con 64%, l'anno scorso, perché scaliamo di un anno, siamo la prima scuola come occupazione della provincia con 65%, non è che il 35% poi rimane disoccupato, è il fatto che magari scelgono altre cose, noi ad esempio abbiamo un corso post diploma, per cui dura ulteriori due anni, quindi dovremmo tornare indietro a tre anni fa a minimo, e poi molti dei nostri che hanno buone votazioni, in generale quelle con delle votazioni basse non tentano la strada universitaria, i nostri ragazzi chiaramente come numeri assoluti vanno a università meno magari dei licei, ma come percentuali, come sempre da Eurispo, abbiamo delle percentuali di riuscita superiori a quelle dei licei, forse perché c'è una selezione a base. Ci sono poi ragazzi che pur avendo delle buone valutazioni, comunque ricevono offerte e vengono subito assunti. C'è una grande richiesta che nonostante quel blocco che voi conoscete da Fornero, c'è una grande richiesta che sta salendo. Ecco, a proposito di richiesta, giusto per capire, come posso dire, il core business di colui che frequenta il Fauser, uno ottiene il diploma del Fauser dopo 5 anni, tra l'altro dove l'attività, come posso dire, didattica è veramente a 360 gradi, nel senso che c'è tanta alternanza scuola-lavoro, c'è tante iniziative con i privati, c'è tanta esperienza proprio fuori dalla classe per cercare di entrare nel miglior modo possibile. Ma, posso dire, l'attività tipica, insomma, di un Fauserista, ecco, di un diplomato al Fauser, quale potrebbe essere, meccanico, poi che altro? Allora, ci sono due specializzazioni che iniziano già dalla prima classe e naturalmente dalla terza in poi si dividono. Sono informatici e aeronautici. Allora, gli informatici lavorano generalmente in ditte aziende di minore consistenza numerica, cioè le aziende che li assumono sono in generale più piccole. Gli informatici, però, non è che vengono presi solo a fare gli informatici come pensa la gente. Gli informatici vanno, ad esempio, a lavorare anche nelle industrie meccaniche per la formulazione dei programmi. Ad esempio, dove fanno il packaging, cioè tutti quei pacchi maledetti con cui litighiamo appena usciamo dal supermercato, ecco, in particolare con dei telefonini cellulari, ecco, quelli hanno bisogno anche naturalmente della parte informatica nella catena di produzione. E quindi vanno lì, esatto. Vanno negli uffici a fare i programmi di natura economica, il substrato informatico. Gli informatici vanno anche a fare dei programmi. Il nostro ministero, il benedetto ministero della pubblica istituzione, quando fa le routine dei programmi, ha degli informatici che non saranno magari del Fauser, ma sono chiaramente informatici. Gli aeronautici utilizzano questa grande tradizione storica che da Cameri va verso, insomma, Lombardo, Gallarate e Gavirate. Con la secca, con i posti, insomma, del basso Varesorto, insomma. E vengono utilizzati non solo come aeronautici, ma vengono usati anche come meccanici specializzati, perché sempre in questa inditta, ad esempio, di packaging che è fuori Novara, alcuni dei nostri aeronautici sono stati presi per la parte meccanica che sono per quelli chassili, li hanno dei robot che non sono antropomorfi, sono delle cose strane, non sono i robot che si vedono in fantascienza, che producono i pezzi. Alcuni di quei pezzi meccanici, siccome hanno attinenza anche con i materiali aeronautici, sono magari programmati dagli informatici come routine, si chiama così, e invece sono ideati al CAD, cioè Computer Ready Design, dai nostri ci siamo, perché comunque hanno queste competenze. Poi naturalmente vengono assunti da altre parti, ad esempio le frecce tricolori, siamo stati recentemente a Udine, le frecce tricolori hanno un nostro capitano e un nostro tenente, cioè, scusate, due nostri salievi, uno capitano tecnico e uno tenente tecnico proprio degli hangar. Che soddisfazione è sapere che una persona che è uscita dal Fauser, si è diplomato al Fauser, quindi cinque anni più importanti dal punto di vista della preparazione, perché non neghiamo che quelli superiori sono non solo le fondamenta, ma sono veramente un bel pezzo di edificio. ecco, hanno frequentato il Fauser e magari fanno parte appunto di questa squadra fantastica delle frecce tricolori che tutto il mondo ci invida, insomma, è vero? Sì, noi siamo andati naturalmente con due ex loro insegnanti che hanno mantenuto i contatti, chiaramente, beh, gli insegnanti non li tenevamo più, erano peggio dei ragazzi da questo punto di vista, no? Perché è una soddisfazione estrema di vederli, poi sono ricordi. Cioè, vuol dire che qui c'è l'entusiasmo dei ragazzi, delle insegnanti che vede... Sì, 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 beh, insomma, hanno fatto uno spettacolo alla fine solo per noi, per quelli del Motoclub Bologna che c'era, eccetera, per cui, insomma, è stata una cosa interessante, quindi erano veramente gasati anche i nostri ragazzi, nonché i nostri due insegnanti e anche io mentre ero lì. Dall'altra parte, gli informatici, ad esempio, alcuni nostri, sto parlando in questo caso proprio dei migliori, dei cento centolode, che lavorano alla Helmec vicino a Varese, la Helmec vicino a Varese è una ditta informatica di 600 dipendenti, che ha ristorante interno, bar interno, ha dentro una nursery interna, ha dentro la possibilità di fare fitness, eccetera, lavorano moltissimo naturalmente ed è chiamata la piccola Silicon Valley Varese, i lombardi un pochino, sa come sono, anch'io sono di nascita a Lombarda e comunque loro hanno un importante loro riferimento, diciamo, una succursale proprio nella Silicon Valley e tutti gli anni due, tre dei nostri ragazzi vengono premiati e un nostro ragazzo simpatico, che veniva un po' chiamato Ciccino perché è un po' in carne come noi, falsi magri, e nel trailer pubblicitario diceva sono già otto mesi che io lavoro qui. Ma dai, ma è bellissimo. L'altra domanda che volevo fare, abbiamo parlato prima, accennato il discorso dell'alternanza scuola-lavoro, esatto. Questo fa capire proprio, insomma, il vestito giusto del Fauser è proprio quello di cercare troppo, come posso dire, far capire a questi ragazzi qual è la vita anche fuori dalle aule, giusto? Certo. L'alternanza scuola-lavoro, detta ASR, ci è caduto un po' sulla testa, devo dire, a tutte le scuole superiori. Chiuso questo discorso, ci siamo dovuti arrabbattare, creare delle strutture, noi siamo riusciti a fare... Il Ministero vi vuole creativi? No, il Ministero ci ha scaricato, ma lasciamo perdere. Ma dopo una patata, insomma, ok, una bella patata. Noi siamo riusciti, battendo tutti sul sprint, a fare una convenzione con Lupo, cioè l'Università del Piemonte Orientale, convenzione che è molto seguita e se per caso dovessimo lasciarla penso proprio che ci sono un'area di scuole che entrerebbero al suo posto, che è molto importante perché questa alternanza scuola-lavoro può avere delle parti in cui i ragazzi usano anche magari gli strumenti del passato, ma oggi se si va anche in un'industria di tutta aeronautica come l'aeroporto di Cameri, le persone che veramente mettono le mani sui bulloni, eccetera, lo fanno con la strumentazione elettronica, con la strumentazione informatica e non c'è più il Ciputi. Non so se è chiaro. No, no, ho capito perfettamente. Le industrie informatiche molto spesso, invece, nelle industrie informatiche sembra di entrare in una farmacia perché sono tutti con dei camici bianco, come entrare in un reparto in medicina all'ospedale maggiore. Ecco, diciamo che l'ASLA adesso come alternanza scuola-lavoro non è l'alternanza per cui si va a usare solo la chiave inglese, anzi raramente. Si usa quasi sempre quel supporto per cui tutte le ditte utilizzano il CAD, il computer ed il design, che è o generale o disegno tecnico o aeronautico oppure anche di altro tipo, non so se è chiaro. Ecco, però facciamo esperienze anche di impresa formativa simulata. Ad esempio con Lupo, nella città di Novara, siamo collegati con la Facoltà di Economia e Commercio, no? Certo. E non solo, noi possiamo dire che tutti gli anni noi arriviamo sempre in semifinale a Milano con la Nivea, la Nivea è quella del Cosmetici, che fa una gara di impresa formativa simulata nazionale. Noi tutti gli anni con una o due quinte informatici arriviamo in semifinale battendo tutti gli istituti tecnici e economici, soprattutto quelli di Novara, questo dobbiamo dirlo. A qualcuno fischieranno le orecchie, però quello è un altro discorso. Perché si tratta di fare decisioni veloci, eccetera, anche se devo dire... Quindi una scuola, possiamo dire, una scuola smart, giusto? La scuola smart, cioè, se c'è un problema subito si cerca la soluzione, un po' come l'albero sul tetto. È caduto però subito a trovare la soluzione per cercare di andare avanti. Bisogna avere un pizzico di fortuna, ma cerchiamo di darci da fare. Un po' di ingegno, ecco. Ultimissima domanda, professor Cattaneo, da questo anno scolastico 2017-2018, che insomma siamo a metà in pratica. Ecco, non dico un sogno nel cassetto, però almeno un auspicio, ecco, come dirigente scolastico e come persona che conosce molto bene gli ingranaggi, i meccanismi, insomma, della scolarizzazione qua nel territorio. Sì, il problema che abbiamo tutti, tutti, tutta la scuola superiore è quello un pochino della selezione e la dispersione dei ragazzi, diciamo, nel senso che senza andare a fare indagini sociologiche sono sempre un pochino più deboli dal punto di vista proprio della struttura, delle competenze con cui arrivano noi. La selezione che abbiamo, la dispersione che abbiamo è ancora alta, non è solo una cosa del Fauser. A me piacerebbe veramente ridurre drasticamente, abbattere del 50% se si riesce. Il problema è che noi abbiamo le risorse umane, cioè sarebbero gli insegnanti, non abbiamo le risorse economiche, neanche gli spazi con cui far fronte a questa cosa. Stiamo già un pochino arginando questo fenomeno rispetto a qualche anno fa. Perché aumenta la debolezza di questi ragazzi, aumenta tanto, allora anche noi dobbiamo fare qualcosa in più e in meglio perché altrimenti invece di diminuire potrebbe aumentare. Questo sarebbe veramente anche un pochino un danno anche per noi, insomma, da questo punto di vista. Quindi cerchiamo di impegnarci. Stato chiarissimo. Professor Cattani, io la ringrazio tantissimo di essere stato nostro ospite. Per me è stato un grande piacere. Tanti, tanti in bocca al lupo per la vostra scuola, per questi ragazzi che hanno questa doppia possibilità sia di entrare nel mondo del lavoro a testa altissima, neanche a testa alta, che è da andare anche avanti, insomma, all'università e soprattutto l'auspicio è proprio quello che la vostra scuola rimanga sempre un punto fermo veramente della didattica, dell'insegnamento veramente del territorio. Grazie di essere stato con noi. Beh, io ringrazio tutti voi e speriamo di rivederci. Assolutamente. Grazie, arrivederci. Diamo un attimo la linea alla regia e tra poco altri ospiti. ci vedo già Moreno Spina già pronto e insomma continua il Radio Salotto dell'Informa Giovani. Linea alla regia.